Ti ha messo alla prova cinque prove che gli uomini fanno sulle donne che gli interessano. Allora, come fare a capire se un uomo ti vuol mettere alla prova? Beh, intanto diciamo presente questo, che gli uomini che ti vogliono mettere alla prova non sono i catramisti casse integrati, ma sono uomini alfa, sono uomini che hanno un valore sociale, sono uomini di valore fondamentalmente, quindi sono questi gli uomini che eventualmente ti mettono alla prova per capire se sei una donna che può andare bene, quindi sono sicuramente gli uomini di valore. Quindi il fatto che un uomo ti voglia mettere alla prova già significa che è un uomo di valore, perché un uomo che invece non è un uomo di valore, è catramista, casse integrato, beh, a quello va bene tutto diciamo, per cui a quello lì non è che importa se tu sei una donna di un certo tipo piuttosto che di un altro, quindi questo devi tenerlo presente, quindi questo è un fatto fondamentale. Gli uomini che veramente ti possono mettere alla prova sono quelli di valore, quindi questo ti dà già un'indicazione positiva sul tipo di uomo. Ovviamente queste prove non devono essere poi asfissianti, devono avvenire una volta e ti conviene capire. Ad esempio, una prima prova è per vedere come ti comporti rispetto ad altri uomini. Ad esempio, un uomo alfa, tra virgolette, veramente alfa sicuro di sé, potrebbe presentarti l'amico bello, o l'amico ricco, potrebbe farti conoscere altri uomini, magari per vedere come tu ti comporti con altri uomini. È evidente che, come dire, qualora capisse che, insomma, sei un po' zoccola, tra virgolette, beh, sicuramente non ti conviene, diciamo, come dire, cioè non ti conviene comportarti male, tra virgolette. Eppure molte donne ci cascano. Questa, tra l'altro, è un test, il test di fiducia, che ti consiglio di fare anche tu quando incontri un uomo. E invece molte donne fanno il contrario, no? Non tendono a non presentare l'amica bella, a non presentare l'amica, l'amica, diciamo, interessante. E questo perché? Perché hanno paura che il maschio se ne innamori, no? Ma, come dire, invece devi metterlo alla prova. Chi non lo fa è solamente una persona insicura, infatti il catramista non lo farebbe mai. La donna sfigata non lo farebbe mai, proprio perché ha paura. Ma, come dire, se... molto meglio verificarlo prima, come si comporta rispetto ad altri uomini o ad altre donne, insomma, in questo caso vale casa nell'altro, è molto importante, insomma, questo è molto importante. Il secondo, quindi, occhio che se ti presenta degli amici, amici anche interessanti, beh, non fare la zoccola perché comunque quello lo perderesti tranquillamente, di sicuro. Un'altra prova che fanno spesso gli uomini, maschi alfa intendo, non il catramista, è quello di testare, diciamo, quanto può allontanarsi. Questo, anche qua, ci va equilibrio. Cioè, è ovvio che se tu non dici niente, questo si fa tutte le sere i cazzi suoi, non va bene. Ma non va bene neanche se invece appena, che ne so, ti dice una volta, ah, stasera vado con i miei amici a, che ne so, a mangiare la pizza o a fare una cosa, all'altra tu inizi a fare scenate di gelosia. Ci va il giusto equilibrio, perché se lui capisce che, insomma, testa quanto può farsi i cazzi suoi, e questo posso garantirti che lo fanno tutti gli uomini. È un qualcosa che accade e tutti gli uomini fanno questo tipo di test. Quindi qua, diciamo che è la regola che dovresti seguire in media virtus est. Non devi essere proprio quella che se ne fotte, perché sennò, come dire, da un lato potrebbe capire che non gli interessi, ma potrebbe anche capire che invece tu accetti tutto, e quindi una volta poi iniziato la relazione sferebbe i cazzi suoi alla grande. Perché diciamo che il maschio, l'istinto del maschio conquistatore c'è, non dobbiamo negarlo. E quindi ti mette alla prova da questo punto di vista. Se invece si fa una via di mezzo, direi che è la cosa migliore, che ti permette di non prendere delle lucciole per lanterne, fondamentalmente. E poi un'altra cosa è cerchere di capire quanto sei indipendente, quanto sai, come dire, gestirti le cose. Magari cercherà di capire, questo nell'interazione, se tu hai bisogno ogni volta di rompi i maroni per qualunque cosa, oppure se invece sei una donna che sa quello che vuole, sei una donna che sa, diciamo, il fatto suo e che non rompi i maroni più di tanto. Questo test, diciamo, di indipendenza è un altro test molto, molto importante. E poi un'altra cosa, un altro test che spesso fanno gli uomini è il cosiddetto test di attenzione. Cercherà di capire se tu fai attenzione a quello che lui dice o te ne frega assolutamente. Perché se lui magari ti dice una cosa, poi tu due o tre giorni dopo manco l'hai sentito, manco l'hai preso in considerazione, non te ne rendi neanche conto, e beh, tieni presente, non ti ricorda assolutamente nulla. Vorrà dire che tu non li presta attenzione, che in realtà non sei veramente interessata a quello che lui dice, non sei realmente interessata a quello che fa, e questo sicuramente non è un buon segnale da questo punto di vista. Quindi questo è un altro test, tra virgolette, che gli uomini fanno spesso per capire quanto valore dai alla conversazione, insomma. E poi c'è un altro test che è un po' la prova del tempo, potremmo definirla. Cioè quanto tu cerchi di gradualmente entrare nella sua vita e lasciarti entrare nella sua. Sembra una cosa banale, ma anche qua ci va la via di mezzo giusta. Perché se tu dal giorno dopo vuoi conoscere la madre, la famiglia e tutto, ti reputerà come invasiva. Ma se non li fai neanche intendere che ti piacerebbe comunque conoscere i parenti, eccetera, oppure fargli di fatto presentarli i tuoi di parenti, amici, eccetera, beh, tenderà diciamo a cavalcare l'onda e a fottersene fondamentalmente e non volersi impegnare più di tanto. Quindi anche qua una via di mezzo gradualmente cerca sempre di coinvolgerlo nella tua vita e di farti coinvolgere nella tua vita. Quindi anche qua direi che la regola migliore è mantenere, diciamo, un'ottima via di mezzo. Ecco, questi test ti fanno capire che hai a che fare con un uomo di valore e con un uomo che prima di impegnarsi vuole vederci chiaro, insomma. Sono test che gli uomini fanno prima di impegnarsi, ovviamente. E se ti reputano che sei una donna interessante, intrigante, eccetera. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici.